Buongiorno e benvenuti alla sede di Euromadonie Termini Merese. Io sono Eliana Romanotto e sono il direttore della sede di Termini. Euromadonie è una scuola professionale che esiste nel territorio termitano da ormai otto anni con due sedi, una a Termini Bassa alla stazione, quindi a Piazza Europa e un'altra sede a Termini Alta, a Piazza Sansone. È una scuola che lavora e collabora con le aziende del territorio, noi siamo anche agenzia per il lavoro. Allora, buongiorno, salve, io sono il professore Cimino, lavoro nella sede di Euromadonie sia a Termini Alta che a Termini Bassa, come avete capito. Qui siamo in un laboratorio di accongiatura e anche di estetica. I ragazzi, come vedete, si stanno occupando di lavorare sulle testine e anche tra di loro si fanno i capelli per cercare di imparare questa meravigliosa attività. Nella nostra scuola non si farà solo teoria, ma già i ragazzi dal secondo anno in poi faranno gli stage presso tante parruccherie che sono in sede, sia a Termini che a zone limitrofi. Se voi girate le parruccherie troverete in tutte e quasi tutte le parruccherie i nostri ragazzi che lavorano come staggiste e staggisti. La nostra scuola, soprattutto, cerca di mettere i ragazzi e inserirli nel mondo del lavoro. Io sono il prof Massimo Leotta e mi occupo del modulo make-up. Io lavoro da tanti anni ormai nel settore del make-up per quanto riguarda sia le fashion week, cinema e teatro. Sono qui ad Euromadonie, ovviamente ho abbracciato comunque il progetto Euromadonie, proprio per riuscire in qualche modo a spingere i ragazzi a questa professione. Oggi il mercato dell'estetica è abbastanza ampio e c'è tanta richiesta, però allo stesso tempo questa richiesta è data anche di avere all'interno dei veri professionisti, con le giuste informazioni ed essere comunque pronti a 360 gradi per affrontare il mondo del lavoro. Quindi bisogna essere anche risolutivi e quindi avere la capacità comunque anche in brevi tempi di fare bene il proprio lavoro. E questo lo si fa solo se c'è la giusta formazione ed è quello che comunque affrontiamo qui ad Euromadonie. La nostra offerta formativa per l'annualità 2024-2025 prevede i seguenti percorsi, operatore del benessere estetica, operatore del benessere acconciatura, barberia, il settore meccatronico, il settore informatico, il settore cucina, quindi chef, pizzaiolo, pasticcere, panificazione e quest'anno proponiamo anche quello che è la qualifica in sartoria nautica. Noi vi aspettiamo, le iscrizioni sono aperte per i ragazzi uscenti dalla terza media, quindi che devono scegliere un percorso di studi. Euromadonie non è una scuola qualunque, è la scuola per il lavoro.